Tumore ovarico migliora l'accesso alle cure grazie alla rete oncologica campana e il percorso diagnostico assistenziale. Ad accedere i fari sull'importanza dell'accesso ai test genetico e genomico sul percorso di cura e sull'importanza della scelta del centro di cura specializzato, ma anche sulle possibilità di convivere con il tumore ovarico oltre la patologia scavando nel vissuto di centinaia di donne affette da cancro ovarico in Campania o a rischio di svilupparlo è l'acto l'alleanza contro il tumore ovarico che ha patrocinato a Napoli in confronto tra clinici, oncologi medici, chirurghi, istituzioni sanitarie per la sponsorizzazione di GSK. Sandro Pignata, primario del Pascale e responsabile scientifico della rete oncologica campana. C'è da cambiare rotta, c'è necessità di sviluppare delle strategie per curare meglio i tumori dell'ovaio che sono tra le patologie oncologiche quelle più complesse perché si presentano spesso in in fase avanzata e perché non possono essere prevenute se non identificando i soggetti sani che sono portatori di mutazione. I lavori è intervenuto anche Giovanni Gerolosima, presidente di Acto Campania. Il nostro compito è di non farle sentire solo, di non far sentire solo la donna e le famiglie in modo da capire che non possono fare viaggi della speranza per il nord ma quando noi abbiamo delle realtà eccellenti qui in Campania. Al confronto ha preso parte anche Francesco Perrone, presidente nazionale di IOM e direttore dell'unità sperimentazioni cliniche del Pascale. La situazione in Campania è una situazione in netto miglioramento per quello che riguarda l'assistenza oncologica grazie ai grandi passi avanti organizzativi che sono legati all'attività della rete oncologica campana. Come emerge la ricerca condotta da Acto in Italia, lo scorso anno l'88% delle pazienti è stato informato riguardo al test genetico per le mutazioni BRCA.